benvenuti di nuovo nella rubrica ve lo spiego io oggi vado a rispondere a una domanda che mi ha posto laura e mi dice anzi ve la leggo ciao questa è una domanda un po tecnica vorrei sapere in tomodachi life come funzionano le tende i campeggi mi servirebbe tanto saperlo laura bene laura i campeggi come vedi ho già selezionato l'icona e anche quindi le tende funzionano che tu devi incontrare persone mediante lo street pass quindi devi portare a giro il tuo 3ds acceso e sperare di trovare altre persone che abbiano tomodachi life e per avere proprio tende all'interno del tuo campeggio si dovrai sperare che abbiano anche dei bambini perché se non hanno bambini arriverà la barca solo esclusivamente con un con il loro tipico abbigliamento che ti cederanno mentre se hanno anche bambini arriverà anche l'ospite che prima andrà a giro per la tua isola e dovrai cercarlo e poi ti chiederà di mettere la tenda nel campeggio e lo troverà lì e ci potrai interagire perfetto questo è semplicemente come arrivano i bambini e le navi spero di essere stata esaustiva e a questo punto io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao ciao a tutti da Stratussina Stratussina